E' un fenomeno che è stato sottovaluto come vi ha detto giustamente prima perché era considerato qualcosa di meno importante rispetto ad altri fenomeni l'ISIS o le proteste sociali che ci sono attualmente in Francia Eppure lo conosciamo bene il fenomeno Eppure lo conosciamo bene Diciamo che ci sono due fenomeni che si stanno sovrapponendo Uno è il vecchio sistema del modello Hulligans era quello inglese soprattutto e quindi c'è una formula di rivendicazione di vendette trasversali fatte in passato Dall'altro la cosa più preoccupante è proprio il fenomeno degli Hulligans russi che lo collegherei anche a quello dei polacchi perché c'è un ritorno di un nazionalismo abbastanza esasperato e questo secondo me è la chiave di lettura di queste nuove forme di Hulliganismo come viene chiamato proprio perché si è rotto qualcosa nei rapporti anche tra le varie tiposerie e si torna a scontrarsi a rivendicare ognuno la propria appartenenza nazionale Lei lo lega anche alla crescita di movimenti xenofobi in Europa, di partiti nazionalisti L'Hulligans non è un fenomeno staccato dalla società è un fenomeno sociale quindi risponde a delle tensioni sociali che vengono in qualche modo poi incanalate rispetto a determinati obiettivi in questo caso ci sono sicuramente tensioni sociali nell'Europa, in questi paesi e la parte più debole probabilmente sfoga la sua frustrazione attaccando l'avversario o unendosi attaccando le forze dell'ordine però il rischio in questi casi è che è stato lanciato un messaggio quindi adesso tutte le tifoserie dovranno dimostrare se sono capaci di affrontare lo scontro questo è un linguaggio molto interno Devo dire che questa è una parte Loro hanno voluto dare, leggevo, una lezione anche agli inglesi che in realtà loro considerano un po' i loro maestri Sui siti hanno scritto abbiamo sconfitto quelli che erano i nostri antichi maestri adesso siamo noi i padroni Esattamente, devo dire il fatto che sia stato portato un razzo dentro la curva è estremamente grave cioè fa capire che un problema di ordine pubblico è molto grosso in Francia in questo momento Devo però dire anche un'altra cosa proprio per evitare l'effetto emulativo che si può venire a generare sarebbe anche il caso di far vedere maggiormente anche delle immagini invece positive C'è un'immagine molto bella di tifosi croati e turchi che festeggiano insieme prima della partita La UEFA si era spesa molto per queste iniziative di formi di ambasciata si chiama l'ambasciata dei fan che si mettono insieme i ragazzi e fanno queste iniziative così come in Italia che non è coinvolta paradossalmente in questi fenomeni perché ha un problema interno cioè ti è talmente forte Infatti la domanda successiva era questa noi al nostro interno nei nostri stadi si vedono scene come queste però in Europa in realtà poi è tutto tranquillo per fortuna perché non esiste fino adesso almeno non esiste una coalizione di tifoserie diciamo estreme è talmente forte l'opposizione campanilistica per cui è stato provato negli anni scorsi dei gruppi che mettono insieme faccio un esempio un po' così veronesi e napoletani non hanno retto insieme e quindi ci stanno maggiormente tensioni interne di tipo campanilistico che fanno sì che non ci sia in questo momento un mondo hooligans italiano grazie grazie a Mauro Valeri grazie a tutti